Ma questo è il Festival di Sanremo o è amici? Già abbiamo parlato di Moreno e Anna Lisa, i video che ho fatto li potete trovare qui sotto o qui intorno da qualche parte e potete cliccarli per vederli. Ma attenzione, ci ritroviamo di nuovo artisti di amici al Festival di Sanremo che ormai è davvero diventato... si sono semplicemente spostati di rete quelli di Maria De Filippi e ci abbiamo infatti qui, grazie di Michele e Marco Curuzzi, che sarebbe Platinette, con il brano Io sono una finestra. Non credo ci sia da sperare molto, penso che la banalità la farà da padrona proprio perché Platinette è una persona molto intelligente, sa che cosa proporre al pubblico di Sanremo che è abituato alla tradizione, alla canzonetta. Sicuramente si darà una denotazione sociale a questo brano, si parlerà di omosessualità, ne sono convinto. Tutto starà nel trasformare la banalità e il tema ormai che è veramente ammorbato i cosiddetti di un po' tutto il popolo italiano, che si trova spiattellata a questa propaganda gay friendly che io non sono assolutamente contrario al mondo gay, al mondo degli omosessuali, però veramente questa propaganda melenza deve finirla, cerchiamo di normalizzare un fenomeno che invece sembra la favola di Cappuccetto Rosso nella Disney, questo è lo storytelling, il marketing che stanno facendo le associazioni gay, quindi speriamo che almeno tra banalità e frasi scontate ci sia un'interpretazione di Platinette, di questo brano, che possa lasciare il segno attraverso la sua voce un po' vibrante, non dal cantante. Penso che possa essere interessante, però è tutto da vedere, tutto sarà al vaglio della performance. Io sono Dellimello, parlo di politica, internet, social, di tutto, potete scrivere qui sotto al mio canale YouTube, c'è il tastino iscriviti, lasciate un mi piace, se siete alternativi, condividete su Google+. Ci vediamo al prossimo video.